Parliamo della sirenetta. Per quanto riguarda i remake live action Disney ho un pensiero abbastanza impopolare perché secondo me non sono così orrendi come viene spesso detto, ovviamente non tutti, non parlo, non faccio di tutta un'erba un fascio alcuni sono davvero brutti, ma film come Il Re Leone per esempio che poi, sì, live action non puoi così tanto visto che è tutta CGI o Aladdin oppure La Bella e la Bestia non sono film così brutti, ovviamente sempre secondo il mio pensiero quindi non parto con dei giudizi a priori prima di vedere il film, anche per questo remake della sirenetta che di pregiudizi ne ha avuti tantissimi alle spalle visto anche la scelta di Ale Bailey come protagonista che è una ragazza nera ad interpretare un ruolo che fino a qualche anno fa era bianco, almeno nel classico Disney ma non voglio soffermarmi su questa cosa perché è davvero polemica inutile fatta ormai dal 2019 quando è stato annunciato il casting voglio parlarvi invece del fatto che io non sono mai stato un grandissimo fan della sirenetta anzi, completamente il film l'ho visto per intero una sola volta ed è stata il giorno prima di andare a vedere il remake al cinema devo però ammettere che mi mancano tantissimi classici Disney, anche tra i più famosi come appunto La Sirenetta che è praticamente il simbolo del rinascimento Disney negli anni 90 assieme ovviamente a Il Re Leone ma quello l'ho visto ed è il mio classico Disney preferito però veramente La Sirenetta l'ho visto pochissime volte a spezzoni o comunque le scene le conoscevo perché vabbè su YouTube da piccolo ascoltavo le canzoni della Sirenetta in fondo al mar ma il film per intero completamente l'ho visto solo una volta e l'altro ieri nonostante tutto avevo un po' di interesse per questo film sapevo che sarebbe stata un'impresa arduo andarlo a vedere perché effettivamente quando mi sono presentato in sala c'erano solo mamme con le bambine e io ero solo in quel caso poi sono arrivati altri maschi in sala ma non era questo il problema anzi comunque si è presentato un padre di famiglia con la famiglia appresso che si è messo a piangere al momento del bacio tra Ariel e Derek quindi ok ma in generale dopo aver visto questo remake posso dire che è uno dei migliori tra quelli usciti remake live action dei classici da questo a dire che è il migliore cosa che ho sentito e ho letto tantissime volte nei riguardi di questo film ne passa acqua sotto i ponti acqua oceano tutte cose pesci qualsiasi cosa ne passa secondo me non è assolutamente il miglior remake live action c'è pur sempre ritorno al bosco dei centoacri che si non è proprio un remake di un classico Disney ma fa parte di quella branca detto questo comunque è un buon film questo si la cgi è buona anche a livello registico c'è qualcosa di interessante nonostante Rob Marshall che è un regista che ha già lavorato con Disney più di una volta sia un mestierante per lo più diciamo non è che è uno dei registi autoriali però qualche cosa interessante l'ho trovata a livello di costruzione dell'immagine come ho detto appunto la cgi è molto molto buona per lo più qualche scena un po' scricchiola sì poi ci sono gli obrobri che sono Sebastian, Flounder e Scuttle questo in realtà un po' meno degli altri due perché quegli altri sono orribili visto che sono effettivamente degli animali realistici Sebastian un po' di meno perché ha quegli occhi un po' strani che un granchio non ha in questo modo però fortunatamente in quanto personaggi tralasciando il lato estetico sono dei buoni personaggi a proposito di personaggi mettiamoli in rassegna uno a uno quelli più importanti ovviamente iniziando da Ariel interpretata da Ale Bailey lei dal trailer in originale ha una voce perfetta infatti sono curiosissimo di andare a vedere poi il film in originale su Disney Plus perché non ho modo di vederlo al cinema in originale perché voglio sentire le canzoni cantate dalla vera Ale Bailey noi in Italia abbiamo una cantante di cui adesso non ricordo il nome è diverso il doppiaggio parlato dal doppiaggio cantato però non ricordo Iana, Iana sì forse, una cosa del genere se non sbaglio è così anche lei molto brava, la voce ci sta ma voglio sentire l'originale Eric invece, nonostante ci siano stati dei cambiamenti che lo hanno reso molto più tridimensionale in confronto al film originale è un po' un personaggio quasi cartonato non eccessivamente perché le sue cose le fa non è il tipico oggetto di desiderio della protagonista come nel cartone originale anche sul finale ha i suoi momenti che lo portano un pochino più in alto ma ovviamente l'occhio di bue è più su Ariel ogni tanto tra l'altro mi faceva ridere il fatto che Eric avesse lo sguardo alla Ryan Gosling fuso a Mike O'Ern che sarebbe lui in pratica ogni tanto questi sguardi alla Mega Chad che fanno abbastanza sorridere Ursula, davvero interessante come personaggio sì, come nell'originale un villain molto poco approfondito anche se qui c'è una cosa in più in confronto all'originale Melissa McCarthy che non apprezzo sempre anzi, nella maggior parte dei casi non riesco a digerirla tantissimo nei prodotti soprattutto in originale qui ha fatto un buon lavoro sotto il punto di vista del design ci sta e sul finale diventa davvero inquietante quando Ursula diventa gigante appunto con il potere di Tritone ovviamente sto facendo spoiler perché sono faccio spoiler solo delle cose che si sanno dal classico originale i cambiamenti che vengono fatti di quello ne parliamo nella parte spoiler perché non voglio entrare nei dettagli delle cose diverse perché ovviamente ci sono cose diverse anche in questo remake come in molti altri ci sono film che cambiano totalmente come Mulan e fanno cagà come Mulan infatti li cambia totalmente il significato qui la fedeltà è ottima però vengono aggiunte cose vengono tolte altre questo non mi ha fatto tanto impazzire ma c'è una buona coerenza comunque sia con il classico originale che come film in generale come ho già detto Sebastian, Flounder e Scuttle sono orribili graficamente ma buoni personaggi Mahmood che doppia Sebastian no sicuramente meglio di come me lo aspettavo dal videoclip estratto in in fondo al mar e infatti quella parte no assolutamente mentre in altre canzoni certamente bravo è il suo lavoro Tritone interpretato da Bardam fa il suo è un personaggio secondario ma comunque importante all'interno della trama anche lui è protagonista di alcuni cambiamenti sul finale del film ne parliamo ovviamente nella parte spoiler e visto che ho parlato di canzoni nel film ce ne sono ci sono alcune che sono state aggiunte altre che sono state cambiate o eliminate del tutto ce n'è una giunta in stile rap verso la fine che mi ha divertito sinceramente perché era inaspettata in quel contesto ma in generale il film comunque intrattiene è lungo perché sì è lungo dura due ore venti se non sbaglio e in confronto all'ora e trenta del film originale si sente la differenza perché alla fine racconta più o meno le stesse cose tranne che allunga alcune scene ne aggiunge altre anche se hanno eliminato una scena che io avrei voluto vedere in live action anzi attendevo tantissimo quel momento e invece è stata fatta in Odimo alla Boris per chi ha visto la quarta stagione di Boris sa cos'è l'Odimo e nonostante il senso di intrattenimento c'è in qualche modo qualche volta ho chiuso gli occhi per qualche minuto per esempio nella scena in cui Ursula subito dopo la canzone prima di trasformare Ariel in umana ecco in quel momento un po' gli occhi chiusi li ho avuti però non è noioso è stata una cosa mia ero probabilmente stanco qualche volta ho anche sorriso con qualche battutina che ha funzionato a questo punto per esempio Sebastian Sebastian nonostante sia doppiato da Mamundo in un modo non così tanto buono in qualche scena lui mi ha fatto ridere uno dei problemi che si poteva riscontrare dai diversi trailer era l'oscurità delle scene la fotografia quindi molto cupa di questo film e ci sono tante scene molto cupa a livello di fotografia quindi molto scure molto buie però ci sono anche tantissime altre scene molto illuminate sia all'esterno dell'acqua che anche nei fondali che ovviamente è una cosa impossibile ma non se ne frega nessuno come gli idioti che dicono eh ma le sirene non possono essere nere perché non hanno melanina non c'è ok il sole non può finire sotto l'acqua in quelle profondità ma le sirene non esistono la cosa che però mi ha fatto davvero ridere è che le scene buie le scene illuminate vengono subito dopo le scene buie senza un effettivo fade tra una e l'altra quindi ho visto più volte le persone davanti fare così nel momento di cambio tra la scena scura e la scena chiara perché appunto arrivava di botto di botto come anche alcuni jumpscare inaspettati ragazzi ci sono tre o quattro jumpscare posizionati qua e là nel film in due ore e venti di film ci sono tre o quattro jumpscare è una cosa inaspettata in un film di questo di questo tipo ma oh hanno funzionato come ho già detto c'erano tantissime bambine e anche bambini poi alla fine all'interno della sala ho sentito gridare ed è una cosa che non apprezzo tantissimo ovviamente durante la visione di un film ma è una cosa che devo accettare andando a vedere la sirenetta e ho visto bambini spaventarsi davvero per il combattimento finale quello appunto con Ursula Gigante quindi sotto quel punto di vista ha anche funzionato il finale come ho già detto è leggermente diverso non in quello che succede ma come succede ok in realtà c'è un cambiamento anche in quello che succede ma possibilmente per un sequel forse come dice il nostro amico Mena Massoud ovvero l'Aladdin del film live action probabilmente arriverà un sequel della sirenetta ma è un cambiamento che comunque non è che intacchi così tanto la storia originale anche perché è proprio sul finale gli altri cambiamenti sono cose aggiuntive che aggiungono effettivamente significato ad alcune cose anche proprio sul finale un rimando all'inizio con una citazione dal libro di Andersen l'originale la sirenetta ma per chiudere la parte senza spoiler di questo video continuo a dire che è un film carino non bellissimo e non il miglior remake live action vi consiglio di andarlo a vedere secondo me farà tantissimi soldi supererà il 700 milioni assicurato quindi a parte qualche piccolissima cosa che non mi ha convinto così tanto è un film promosso ripeto che voglio assolutamente vederlo in originale su Disney Plus per sentire le canzoni cantate da Ale Bailey ma anche le altre canzoni in realtà perché doppiate si sente molto non si sente si vede molto la differenza nel labiale perché hanno cambiato in originale hanno cambiato molto i testi delle canzoni originali in italiano invece hanno tenuto quelli del film animato che ovviamente erano diverse da quello originale nel film animato già in partenza essendo adattate più che tradotte e mentre per esempio Eric si vede proprio precisamente che ha la bocca a forma di O o A in inglese ed è una cosa che un po' può dare effettivamente fastidio guardando le scene cantate ma non si identifica così tanto come un problema almeno per quanto mi riguarda ma ragazzi se ancora non avete visto il film e non volete sapere i dettagli cambiati all'interno di questo remake live action vi invito a lasciare il video perché gli spoiler inizieranno fra poco come sempre vi ricordo però che in descrizione ci sono i link importanti tra i miei social tra cui Instagram dove ho pubblicato la recensione fusa anche della sirenetta in cui c'è il mio volto attaccato a alle Bailey sì ma c'è anche il link di Pumpling il sito di t-shirt è Articoli Nerd dove in questo periodo ci sono molte promozioni tra cui anche una maglietta gratis ogni due comprate se inserirete il codice il pensiero 4 al momento del pagamento avrete un paio di calze gratis a scelta e quindi affrettatevi il link lo trovate nella descrizione vi saluto se non avete visto la sirenetta perché gli spoiler iniziano tra 3 2 1 come primissima cosa voglio parlare della citazione la prima cosa che compare effettivamente nel film a parte le onde ovvero la citazione tratta dal libro originale dal romanzo originale ovvero le sirene non hanno lacrime e per loro è più difficile soffrire ed è una cosa che poi ritorna sul finale perché Ariel una volta diventata umana piange in un momento che nell'originale non c'è ovvero quando Eric e Ariel partono per mari inesplorati e Tritone con le sorelle di Ariel e gli altri sirenetti si presentano si fanno vedere anche dagli altri umani firmando quindi concettualmente questa pace dopo questa battaglia tra mostri marini e umani cosa che nel film originale non c'era qui è stata aggiunta altri cambiamenti riguardano per esempio Ursula Ursula qui è la sorella di Tritone quindi la zia di Ariel come ho già detto lei sul finale è protagonista anche di un paio di jumpscare funzionali diventando gigante diventa anche molto inquietante devo ammettere e il modo in cui muore è abbastanza cruento in realtà e non mi sarei aspettato morisse in questo modo adesso magari ho un lapsus e muore così anche nell'originale ma non mi sembra tra l'altro nell'originale lei ha questi mostriciattoli come prigionieri che sono a quanto pare le sue vittime tra cui anche Tritone nel film originale Tritone diventa questo mostriciattolo qui non ci sono anche perché sarebbe stato difficile realizzarlo in modo credibile secondo me e infatti quando qui Tritone cade nel tranello di Ursula muore non si trasforma in nient'altro muore a tutti gli effetti poi ritorna in vita non si capisce come in realtà perché mentre nell'originale magari sotto il fattore di trasformazione dopo la morte di Ursula si poteva pensare a un fine incantesimo con la morte è una cosa un po' diversa per quanto riguarda Eric ho detto che anche per lui ci sono dei cambiamenti infatti lo fanno sembrare meno stronzo perché nell'originale lui quando inizia a sentire la voce di Ursula rubata ovviamente ad Ariel si innamora subito e dice vabbè freghiamoci di Ariel io voglio solo quella che mi ha salvato che ovviamente è Ariel ma lui non lo può sapere perché quella non sta parlando ecco qui fanno capire ancora di più magari anche nell'originale era incantato da Ursula ma qui lo fanno proprio capire perché lui è titubante nello sposarsi con Ursula sente che c'è qualcosa di strano in se stesso proprio direttamente lo sente che sta facendo una cosa contro la sua vera volontà mentre nell'originale questa cosa non traspariva se c'era anche l'incantesimo in quel caso per Ariel invece il fatto che non parli e che soprattutto Eric non riesca a sentire nel momento Bachel nel momento della canzone ho apprezzato che Eric non senta realmente gli animali infatti lo capiamo con Scattol che canticchia un motivetto ma gli umani almeno Eric in quel momento sente solo un gracchiare quindi di conseguenza non sente Sebastian dirgli di baciare Ariel e al contrario dell'originale dove Eric scopriva il nome di Ariel con a causa di Sebastian grazie a Sebastian che glielo diceva direttamente qui qui mi è piaciuto di più il modo in cui scopre il nome forse un po' forzatino perché non so come Aries Ariete in italiano con un movimento così si sia trasformato in in una L almeno ci hanno provato e questo ci sta la scena eliminata di cui ho parlato nella parte no spoiler è quella della cucina e io quella scena l'avrei voluta vedere nel film invece è appunto stata fatta in odimo lo dice semplicemente Sebastian incontrando Ariel sul balcone le dice stavo per finire in una pentola per te e infine l'ultimo cambiamento tra quelli più importanti almeno che possibilmente potrà portare a un sequel il fatto che Ariel e Eric non rimangano al castello ma se ne vadano in acque inesplorate quindi alla ricerca di un qualcosa che non so probabilmente arriverà un sequel soprattutto se il film farà tanti soldini ed è una cosa non dico certa ma ci siamo vicini e sinceramente ripeto ancora una volta che se dovesse fare qualche soldo in più del solito ne sarei comunque contento perché è un film carino non non eccelso ma un film che consiglio di vedere soprattutto se si è fan dell'originale a me non frega tantissimo della sirenetta quindi né nel lato negativo del di questo remake quindi magari infanzia rovinata cose così né in quel senso né nel lato positivo di ritrovo di infanzia quindi di nostalgia né in un senso né nell'altro io mi trovo al mezzo quindi forse il parere più non dico oggettivo perché il mio parere è soggettivo in ogni caso però magari il mio pensiero può interessare a chi come me non aveva mai visto interamente il film o chi proprio non l'ha mai visto ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi se volete fare spoiler mi raccomando non rovinate il film a chi ancora non l'ha visto quindi anticipate il vostro commento con la dicitura spoiler poi lasciate qualche spazio e scrivete lì il vostro messaggio vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social i link di pampling codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis a scelta e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao